buongiorno a tutti nuovo video breve per una nuova creazione ho cambiato sfondo cambiato tovaglia bene anche perché sono sul tavolo della cucina bene allora la creazione bando è questa ok allora ho fatto con la stessa tecnica del cestino che ho fatto l'altra volta che avete visto nell'altro video ho fatto le rose però in giallo anche in questo caso siccome sono boccioli non ho fatto come da tutorial l'ultima foglia quella più grande rotonda ho fatto solo quelle classiche diciamo poi ho messo un po di verde di colori diversi sì forse si vede un pochino ma casomai mi metto poi la foto un po più chiaro un po più scuro perché non le avevo ho detto vabbè non vado a comprarlo e quindi fatto così ho fatto anche qui questi famosi cosi che non so come si chiamano è apposta e quindi ne ho fatte solo tre perché volevo che fossero tre in realtà ecco nel senso non è che mi sono stancata ho finito le perline no perline ne ho ancora però volevo proprio farne tre fare proprio piccolino piccolino ho utilizzato al posto del cestino è un vasetto di vetro mi ospedate vi faccio vedere ho messo la spugna sotto è un vasetto di vetro a cui ho aggiunto questa corda questo nastro che è alto circa credo 5 centimetri perché l'altezza è questa qua e poi ho fatto la giuntura qui e ho rigirato il resto di dentro per capirci si vede un pochino ma insomma pazienza poi riciclando riciclando perché io non butto niente o quasi ho messo questo nastro che voi vedete bianco ma è un colore più panna diciamo riciclato da non so cosa da qualche pacchetto regalo eccetera qualche bomboniero quello che è idem per questo nastrino giallo che volevo riprendesse vedete meglio senza luce fantastico e poi per nascondere un po le giunture perché qui finiva il filo giallo ho fatto questa spiralina con il filo in in rame dorato non avevo niente da mettere e non avevo mezze perle quindi piatte dietro da poter usare quindi ho detto vabbè metto questa poi vedrò dove c'è ancora qualche filetto che vola devo ripassarlo eventualmente un po con la colla e l'ho attaccato con la colla vinilica perché ho detto sul vetro una colla a caldo non tiene e anche i nastrini gli ho fissati con la colla vinilica spero che tengano così dall'altra parte siccome non volevo fosse tutto in fila c'è ancora cosa c'è ancora il filo e ho fatto siccome si giungeva qui l'altro filo ho messo un'altra spiralina non ho voluto volutamente mettere allora vi spiego allora qui c'è la giuntura del del nastro questo di iuta o quello che è e c'è anche la giuntura di questo filo giallo di qua invece c'è la giuntura di questo filo non volevo che capitassero tutti dallo stesso lato perché non volevo che avesse un dritto e un rovescio essendo anche tondo quindi non avevo voglia di mettere un fiocchetto da una parte perché ecco questo è il dritto ecco volevo proprio che fosse così anche perché lo tengo sulla sulla tavola quindi insomma lo tengo proprio qua lo vedete sullo sfondo in cui sta così almeno risalta e niente poi l'unico dubbio che ho quindi se volete lasciatemi un commento qua sotto è proprio per il fondo perché ovviamente si vede la spugna non sapevo volevo quasi quasi mettere un po di sughero piatto giusto per coprire qui però sono un po indecisa quindi ditemi ditemi voi come cosa fariste al mio posto e niente che bello meno di quattro minuti un salutone alla prossima ciao